Signor Oscar, buon tempo. Complimenti per l'installazione qua nel suo giardino come ogni anno. Quali sono le novità quest'anno, se ci sono? Beh, ci sono delle luci nuove, un presepio fatto nuovo e comunque tante luci sono nuove. Poi il presepio sull'angolo della via e poi essendo tagliati i pini che erano giganti si vede più le luci. Quanto ci ha messo a fare un'installazione così? Beh, non neanche tanto, penso 8 giorni. 8 giorni? Sì, lavorando un po' di ore al giorno. Lei? Sì, perché ho adoperato tutte le luci che sono le più piccole, sono 480 a 1000-1500 luci a filo, quindi si sta un po' meno a fare il lavoro. Perché lo fa? Ah, ho iniziato con la mia bambina che era piccola, adesso ha quasi 40 anni, quindi... E poi ci sono gli altri bambini che aspettano ogni anno. Anche se non ce la faccio devo farlo lo stesso, insomma. Perché se l'aspettano da lei. Certo. Che flusso di gente ha qua ogni giorno quando... Ma quando era nel pieno abbastanza, tanta gente. Gli altri anni si girava sulle 35-40 mila persone il giro. Poi sai con il covid così è ravventato un po' tutto. Però già ha cominciato specialmente domenica e sabato. Quante luci pensa che ci siano qui per fare un calcolo approssimativo? Ma... onestamente non lo so. Quest'anno non le ho contate. Però ce ne sono abbastanza, insomma. qualche migliaia. Sì, saranno sicuramente più di 50 mila. 50 mila. Però dentro il porto ne avrò altri 30-40 mila.